e un grazie doveroso ai molti istruttori e istruttrici che hanno avuto negli anni la pazienza di avere una allieva molto tardiva rispetto ai ragazzini e ai bambini con tanta passione e che con questa motivazione e con il loro aiuto è riuscita pian piano a migliorare e a sintonizzarsi sempre meglio. Considero questo apprendimento un apprendimento infinito come è infinito l'apprendimento in ogni ambito della vita, nella professione, nel rapporto con gli altri ecco che allora questo tiene una giovinezza mentale, un allenamento e quindi grazie ai miei istruttori e alla loro pazienza continuo a migliorarmi, a imparare e questo atteggiamento mi ricorda sapete chi? Uno straordinario pittore che a 90 anni nell'autoritratto al Prado di Madrid ha scritto «Aun aprendo, imparo ancora» chi era Francisco Goya grazie a tutti